Facciamo di vedere chi comanda! Non abbiamo pericolato la curazza! Caro nemico, ammigliato! Sento! Mi viene fatto male! Mi viene fatto male! Autore dei sottotitoli. L'abbiamo preso per venire! L'abbiamo preso! L'abbiamo intendiato! Beccato! L'abbiamo appena greciando! Uno dei morti è stato disfrutto! Caro nemico a tante paese! L'abbiamo preso! Cingole sistemato! All cut! Uno del suono dei morti gari! Un nemico eliminato! Attendo bucato alla terrazza! L'abbiamo preso! Caro nemico ademico! Nemico a tante paese! Grazie. 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 Attenzione su quella posizione. Missione compiuta. Ottimo lavoro. Grazie.